Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori della conferenza mediterranea, in particolare il professor Venerando per questo invito e questa opportunità di parlare di un tema poco noto forse, come ho scritto poi nel titolo, cioè il rischio dei maremoti, degli tsunami nel Mediterraneo. Nel nostro mare sappiamo dalle cronache storiche che abbiamo avuto numerosi maremoti, lo vedremo più avanti, alcuni molto grandi, con grandi distruzioni e numerose vittime causate appunto magari dai terremoti che li avevano generati o dalle eruzioni vulcaniche e poi dalle onde di tsunami. Le zone più pericolose sono quelle dell'arco ellenico, dell'arco di Cipro, il mare Geo e anche le coste del Nord Africa, ma anche in Italia non ci facciamo mancare questo rischio, come ben sappiamo, e abbiamo varie zone, vari mari che sono affetti da questo rischio, in particolare il tirreno e lo Ionio, la parte bassa del tirreno e il mar Ionio, ma anche l'atriatico ha avuto in passato storie di tsunami e anche il mar Rigure. In questa presentazione vi parlerò anche poi della creazione recente in questi ultimi anni del centro allerta tsunami presso l'INGV e della contestuale creazione di un sistema nazionale di allertamento maremoti appunto da parte del Dipartimento di Protezione Civile nazionale con l'INGV e l'ISPRA. Qualche dato sull'impatto degli tsunami che appunto, come dicevo, sono eventi poco frequenti ma purtroppo hanno la caratteristica di essere eventi piuttosto pericolosi. Qui questo grafico che rappresenta l'andamento dei danni in termini economici e di persone uccise da disastri, disastri che chiamiamo naturali ma forse impropriamente perché ovviamente non sono disastri naturali ma sono in generale dovuti a opere umane che non resistono a un terremoto o a un evento vulcanico, a un'eruzione vulcanica o a uno tsunami e in questo grafico appunto che si ferma al 2011 quindi non è aggiornatissimo, poi vedremo qualcosa di più recente ma vediamo che gli tsunami sono comunque tra gli eventi più distruttivi, in particolare in questo lasso temporale ci fu lo tsunami, il grandissimo tsunami di Sumatra e dell'Indonesia, dell'Oceano indiano nel 2004 che provocò oltre 250.000 vittime e poi quello di impatto altrettanto grande anche se in termini di vita umana e minore del Giappone del 2011, quello che ricorderete poi provocò l'incidente alla centrale nucleare di Fukushima. Non vanno però trascurati, non sono riportati integralmente in questo grafico, anche gli eventi meno eclatanti di quelli che ho citato che però ci sono stati, ad esempio se guardiamo gli anni successivi a questi rappresentati in questo grafico troviamo almeno due eventi importanti, quello dell'Indonesia, nell'altro lato diciamo dell'Indonesia, nella penisola del Sulawesi nel 2018 che pure provocò diverse migliaia di vittime tra il terremoto e lo tsunami e poi quello dell'eruzione della Nakhrakatoa, con l'asso di un intero fianco, un pezzo molto grande del vulcano, anche lì ci fu uno tsunami che provocò alcune centinaia di vittime. Ci sono stati poi nel frattempo, lo vedremo più avanti, alcuni tsunami di minor importanza ma comunque molto dannosi, ad esempio qui cito quello di Samos, un'isola greca, nel 2020 ci fu uno tsunami che fece diversi danni sia in Grecia che in Turchia con anche una vittima. Qualche dato fisico sul fenomeno, uno tsunami non è altro che un treno di onde che si propaga nello strato liquido esterno della Terra, in genere mari e oceani, anche nei laghi si possono provocare degli tsunami, ma in generale in mari e oceani la forza di richiamo è la gravità, quindi si crea un'anomalia del livello del mare che poi si traduce in una creazione di onde che viaggiano in tutte le direzioni, qui vediamo un taglio immaginario lungo una sola direzione con una generazione dovuta in questo caso ad una faglia sottomarina che sposta il fondale oceanico, si crea una perturbazione nell'acqua e poi per gravità queste onde si muovono in tutte le direzioni verso le coste ovviamente e aumentano il loro pericolo, la loro altezza mano mano che si avvicinano alla costa. Vediamo qui una delle cause, la causa più frequente degli tsunami nella Terra che sono appunto i terremoti, quindi c'è una faglia sotto il livello, sotto il fondale marino o oceanico si muove e si crea appunto una perturbazione nel fondale che si trasmette all'acqua e poi appunto l'onda si propaga in tutte le direzioni. Le caratteristiche degli tsunami, quindi la loro cosiddetta tsunami genicità, quindi quanto poi un terremoto può diventare tsunami genico dipende da vari fattori, chiaramente uno è la magnitudo, quindi la grandezza del movimento, della faglia che si muove, la profondità, ovviamente i terremoti devono essere piuttosto superficiali per generare questo tipo di deformazione sul fondale e il meccanismo del terremoto che deve essere diciamo di tipo verticale, quindi una faglia normale o una faglia inversa che quindi generano questo tipo di deformazione. altre cause di tsunami note sono le frane, che possono essere frane sottomarine o subaeree, oppure le eruzioni vulcaniche come quella che citavo del vulcano Anak e Rakatoa in Indonesia nel 2018. Sono meno frequenti, in genere anche le frane sono normalmente eventi che possono avere un impatto forte ma molto locale perché sono comunque chiaramente corpi che si muovono molto grandi ma non hanno nulla a che vedere con le deformazioni prodotte dai terremoti che ho citato prima che sono faglie lunghe centinaia di chilometri. La propagazione non è omogenea in tutte le direzioni nel caso di un terremoto, in particolare dipende da come è orientata una faglia, quindi ci sarà una zona che sarà colpita maggiormente quella diciamo di fronte alla faglia perpendicolarmente appunto alla sua direzione. Le caratteristiche delle onde di tsunami sono molto diverse da quelle delle onde di vento, qua si sono riassunte le caratteristiche, vedete che per esempio le lunghezze, soprattutto la differenza nella lunghezza dell'onda che nel caso degli tsunami è di diverse decine di chilometri, quelle di vento sono nell'ordine di decine di metri o centinaia di metri. La velocità dell'onda di tsunami è molto maggiore, può arrivare a diverse centinaia di chilometri all'ora in funzione della profondità e le onde di vento sono più lente e poi anche il periodo dell'onda ovviamente è molto maggiore quello degli tsunami. Qui vediamo appunto il tipo di movimento che viene indotto da uno tsunami che interessa l'intera colonna d'acqua fino alle profondità di alcuni chilometri quando appunto c'è un oceano molto profondo e quindi l'energia che viene trasmessa è molto grande. Questo è in uno schema cartoon, insomma si vede la differenza, le onde di vento sono più corte, arrivano a bagnare alcune decine di metri davanti e indietro lungo la spiaggia mentre quelle di tsunami hanno una grande lunghezza e quindi poi quando arrivano vicino alla costa diventano come un torrente di un fiume che scorre e allaga tutto quello che trova sul suo cammino per centinaia di metri o chilometri. Qui è rappresentata un po' la caratteristica di queste onde quindi come cambiano diciamo le caratteristiche di lunghezza e di velocità vedete che in quei numerini che sono in basso a destra si vede che per profondità molto alte le velocità sono molto elevate di diverse centinaia di chilometri orari mentre avvicinandosi alla costa la velocità diminuisce ma rimane sempre sostenuta, parliamo di 40, 50, 60, 80 chilometri orari ma l'altezza cresce molto e quindi chiaramente l'impatto sulla costa è molto grande. Il primo movimento del mare può essere un ritiro o un'ingressione e qui vediamo una foto della Thailandia appunto del caso del tsunami indottosi dal terremoto in Indonesia a Sumatra, in quel caso in Thailandia dove pure ci furono molti danni e molte vittime e ci fu un forte ritiro del mare inizialmente tanto che le persone che non capivano il motivo non sapendo del pericolo dello tsunami si avvicinarono, rimassero lì sul bagnasciuga come purtroppo si vede spesso in diversi casi storici e poi sono riusciti, almeno questi di questa foto si sa che sono poi riusciti a salvarsi ma molti altri non ce l'hanno fatto. In altri casi invece come nel Giappone per esempio in questa località qui che è uno dei tanti porti colpiti dallo tsunami del 2011 c'è un proprio un'ingressione lenta ma piuttosto veloce diciamo e lenta nel senso che non è come una tempesta ma in pochi minuti il livello dell'acqua sale sale e magari in alcuni minuti, in alcune decine di minuti supera l'altezza delle barriere di protezione come in questo caso qui e comincia a scorrere all'interno, avrete visto sicuramente qualche filmato impressionante di questa massa d'acqua enorme che poi entra nell'entroterra e colpisce questi paesi, questi porti portandosi via non solo macchine o barche ma anche addirittura interi edifici per diverse centinaia di metri o chilometri. Qui c'è un po' di terminologia, quindi l'altezza dello tsunami è quella che vedete lì, è l'onda che cambia appunto mano a mano che ci si avvicina la costa, cioè si parla di massima altezza dello tsunami, maximum inundation height che è appunto la massima altezza dell'inondazione e poi quello che viene comunemente chiamato il run up che è l'altezza topografica a cui diciamo arriva l'acqua che può essere di diversi metri o qualche decina di metri addirittura in qualche caso. Ok, qui vediamo adesso una mappa del mondo, questi sono i grandi terremoti del periodo dal 2000 al 2011, la maggior parte dei terremoti come vedete avviene vicino alle coste, lungo le coste o in mare e quindi chiaramente sono tutti terremoti che se abbastanza forti e superficiali possono generare tsunami. E in effetti qui per esempio c'è una lista di eventi dal 1900 ai primi anni del 2000 in cui si vedono alcuni degli eventi sismici più grandi che hanno generato questi tsunami e con nell'ultima colonna a destra l'altezza massima dell'acqua, quindi il massimo run up misurato che vedete può arrivare anche a diverse decine di metri come nel caso del 2004 in Indonesia 50 metri, nel caso di questo terremoto del 64 in Alaska addirittura 67 metri, 25 nel caso del Cile, terremoto enorme di magnitudo 9.5 e così via, nel Giappone siamo quasi a 40 metri il terremoto del 2011 che visitavo. Se guardiamo una mappa delle sorgenti di tsunami storiche, quelle conosciute, vediamo che ricalca un po' la mappa sismica che avete visto prima e la maggior parte come dicevo prima degli tsunami catalogati in questo historical tsunami database del NOAA dell'Agenzia Americana dell'Atmosfera dell'Oceano sono i pallini che sono appunto tsunami indotti da terremoti, mentre i triangoli sono quelli indotti dai vulcani, ne riconoscete qualcuno, anche Stromboli si intravede qui o Santorini nel Maregeo e qualcun altro lungo le coste qui del Pacifico dalla parte dell'Asia, ma c'è anche qualche frana che è rappresentata dai simboli quadrati in qualche zona, soprattutto nel nord Europa, in Norvegia e così via, dove ci sono questi grandi collassi sui fiordi. Qui adesso c'è uno schema che fa vedere dov'è che si generano questi terremoti al contatto tra le placche appunto tra un oceano e un continente, quindi dove una litosfera oceanica si inflette e si infila sotto la crosta continentale, sotto la litosfera continentale, il processo che si chiama subduzione, questo processo è molto lento, c'è un continuo accumulo di energia lungo questi margini, queste interfacce, fino a che appunto poi non si genera un movimento improvviso, dopo magari qualche decennio, qualche secolo e si genera quindi il movimento che poi genererà il terremoto e a sua volta genererà gli tsunami. Quindi i terremoti di subduzione sono quelli più tipici per generare gli tsunami, ma ci sono anche terremoti che avvengono in altre zone, questi outer rise significa appunto nella parte esterna rispetto alla zona di subduzione o anche qualche volta i terremoti trascorrenti, quindi quelli che hanno un movimento orizzontale dei blocchi di faglia, ma che comunque possono in condizioni particolari generare degli tsunami, magari non grandi come quegli altri, ma anche qui ci sono casi abbastanza noti di tsunami indotti da questo tipo di terremoti. Un tipo particolare poi di terremoti che sono chiamati in inglese tsunami earth, X, quindi terremoti da tsunami, cioè terremoti che inducono il tsunami, sono proprio quelli che definiti così appunto da Cana Mori nel 72, che sono molto pericolosi perché sono terremoti non tanto grandi e comunque non grandissimi come quelli che citavo prima, ma che comunque hanno delle caratteristiche di movimento dei blocchi di faglia che sono molto importanti e terremoti che possono essere diciamo più lenti come processo di rottura rispetto ai classici terremoti, ma possono fare dei grandi tsunami appunto dicevo qua, pur con magnitudo relativamente bassa. Entriamo un po' nella storia adesso, adesso senza andare troppo in dettaglio perché qui ci sarebbe da parlare per ore, uno dei più grandi eventi noti sia come terremoti che come il tsunami della storia è quello del 1 novembre 1755 di Lisbona, del Portogallo e delle coste dell'Atlantico orientale che ha una storia molto importante perché fu sentito in tutta Europa, perché ne scrissero tantissimi scienziati e filosofi del tempo, qui vedete da sinistra a destra Voltaire che scrisse un famoso poema sul disastro di Lisbona, Rousseau che gli rispose e con delle interessanti riflessioni proprio sul concetto di rischio, rischio naturale, rischio dovuto all'uomo e anche Kant che è l'ultimo a destra che appunto invece scrisse proprio sui terremoti con delle importanti intuizioni sulla loro genesi. Non entro qui nel dettaglio ma insomma questo è il primo caso studiato, conosciuto e che ha dato tantissima linfa agli studi su questo tipo di fenomeni. In alto a destra, non l'ho detto, era il Marchese di Pombal, quello che poi ricostruì la città di Lisbona e che è famoso per avere appunto fatto dei questionari per lo studio del terremoto, per aver fatto una pianificazione della città a prova un pochino di terremoti e di tsunami e così via. Qui c'è in questa slide un riferimento bibliografico di alcune cose che potreste voler approfondire, sia cose scientifiche che cose più filosofiche e insomma si trova molto in rete se cercate questo argotto ovviamente. Veniamo ai sistemi di allerta. Qui c'è una figura curiosa che spesso faccio vedere anche agli studenti perché si può definire il primo sistema di allerta forse sugli tsunami e questo è un signore che si chiama Goryo Amaguchi, qualcosa del genere, che in una città del Giappone nel 1854, il 5 novembre in particolare, dà fuoco da una collina da cui lui aveva intuito l'arrivo di un tsunami da fuoco alle foglie del raccolto del riso per attirare l'attenzione dei suoi concittadini che invece erano sulla riva, sulla costa e facendo in questo modo queste persone vedendo queste fiamme, questi fumi dalla collina si precipitano a vedere cosa era successo e si salvano perché arriva lo tsunami. Quindi è il primo caso diciamo vero, documentato di un sistema di allerta. Ovviamente i sistemi di allerta oggi si basano su altri concetti, qui c'è una sintesi degli elementi chiave dei sistemi di early warning in generale e degli tsunami in particolare dell'ufficio delle Nazioni Unite, quello che adesso si chiama UNDRR, Disaster Risk Reduction, in cui le quattro pietre miliari sono la conoscenza del rischio, della pericolosità del rischio, il servizio di monitoraggio e di allerta, ma anche importante come vedremo più avanti la disseminazione e la comunicazione di questi messaggi che devono raggiungere le persone a rischio e poi è anche importante la capacità di risposta di chi riceve i messaggi. Senza uno di questi quattro elementi difficilmente si va lontano e anche nel protocollo di Sendai del 2015-2030 si ritrovano appunto delle importanti indicazioni su quello che devono fare, che ci si aspetta che facciano i ricercatori, gli accademici e gli studiosi in generale per ridurre i rischi. Andando avanti sempre sui sistemi di allerta tsunami, qui ce n'è uno molto importante nel 1946, nel Pacifico, sempre nelle isole Aleutine, a fianco dell'Alaska, dove questo grande terremoto e questo grande tsunami fa sì che non solo distrugge quel faro che vedete lì, che è una cosa gigantesca con onde alte appunto 50 metri, ma poi le onde arrivano alle isle Hawaii e provocano addirittura oltre 170 morti a Ilo dopo diverse ore dalla generazione dello tsunami. Non c'era un sistema di allerta e quindi si decide proprio alle Hawaii di impiantare il primo sistema di monitoraggio dei tsunami nel Pacifico per difendere almeno le isole Hawaii. Dopodiché nel 1960 c'è un altro grande terremoto con un altro grande tsunami e viene istituito il Pacific Tsunami Warning Center che serve un po' a tutti i paesi che circondano il Pacifico. Anche in Giappone negli stessi anni si fanno cose analoghe e quindi si impiantano dei sistemi di allerta. Passano molti decenni ma si arriva alla catastrofe del 2004, nonostante appunto nel Pacifico esistessero dei sistemi di allerta già dagli anni 40 o comunque almeno dagli anni 60, quando avviene questo grande terremoto nella zona dell'Indonesia non esisteva un sistema di allerta per l'oceano indiano, esisteva solo per il Pacifico. Quindi questo è un terremoto del magnitudo 9.2, una faglia lunga oltre mille chilometri con spostamenti di 20 metri tra i due lembi della faglia, un tsunami enorme che non solo distrugge, fa molti danni a molte vittime in Indonesia vicino alle isole Andamane, alla banda Ace, a Sumatra dove appunto si genera il terremoto ma anche in Thailandia, anche in India, anche in tutte le isole dell'oceano indiano, addirittura dall'altro lato, cioè in Africa, in Somalia, nell'Africa orientale ci sono decine e centinaia di morti, quindi nessuno avvisa nessuno per molte ore. E quindi che succede? Che ci si accorge di questo rischio in tutti i mari e si decide, sotto legida delle Nazioni Unite, di creare un sistema globale di tsunami warning system, TWS. Ce ne sono quattro, vengono impiantati quattro sistemi, oltre a quello del Pacifico che già esisteva, quello dell'oceano indiano, quello della parte dell'Atlantico che viene chiamato Caraibi, ma comprende tutta la parte occidentale dell'oceano Atlantico, invece la parte nord-est Atlantico, quindi la parte europea, principalmente in parte del Nord Africa, e tutto il Mediterraneo viene definito come NEAM-TWS, cioè North East Atlantic, Mediterranea and Connected Seas, quindi anche il Mar Nero, anche il Mar di Marmara sono compresi in questo sistema, e questo è il sistema di tsunami warning system che riguarda anche noi, ovviamente anche l'Italia. Veniamo adesso al Mediterraneo e agli tsunami che conosciamo, sono moltissimi, come vedete qui, sono oltre 200, di cui quasi il 90% sono di origine sismica, questo è un catalogo delle colleghe che leggete sotto, ma era mai d'altri, del 2014, poi ripubblicato nel 2019, integrato, e di questi maremoti, la maggior parte sono piccoli maremoti, magari registrati solo in alcune località, solo dagli strumenti, o comunque che non hanno fatto danni, ma ce ne sono diversi, alcune decine che hanno fatto grandi danni. Poi lo vedremo dopo qualcosa della Grecia e dell'Italia. Qui andiamo un po' più in dettaglio sull'Italia e vedete in questa tabella quali sono stati gli tsunami più importanti nel corso dei secoli, si parte dal 1169 in Sicilia, un grande terremoto anche lì con poche notizie, ovviamente parliamo di quasi mille anni fa, e poi mano mano, 1600 nel Gargano, ancora in Sicilia e poi in Calabria, famosi terremoti del 1783 e così via, fino ad arrivare a Messina, 1908, un grande terremoto e un grande tsunami, nell'Adriatico nel 30, piccolo tsunami in questo caso, ma poi abbiamo le eruzioni del Vesuvio del 44, scusate delle isole Eole del 44 e nel 2002, lo stesso quella di Stromboli con un importante tsunami anche in quel caso. Vedete sono un po' distribuiti in tutti i mari, con particolare concentrazione nella parte a sud tra la Sicilia e la Calabria, ma anche appunto Puglia, Licuria e così via. Qui vediamo uno zoom sul Mediterraneo orientale, in particolare l'area Aegea, l'area della Grecia, dell'arco delle isole, dalle isole ioniche a quelle alle cicla di Creta e qui appunto vediamo che ci sono diverse sorgenti di tsunami, alcuni sono stati citati prima, quello più famoso del 365 dopo Cristo nell'area di Creta occidentale, ma ce ne sono stati diversi altri nel 1303 dopo Cristo e poi anche più recentemente un grande tsunami ci fu nel 1956 all'isola di Amorgos. Qui c'è anche l'eruzione, questo triangolino rappresenta la sede di terra dell'eruzione del vulcano Santorini e qui vediamo in questa immagine invece la sorgente, la faglia proposta, ricostruita insomma dagli studi per il terremoto di Creta, quindi nella parte occidentale e le isoline rappresentano i tempi di propagazione dell'eventuale tsunami di Creta, si vede qui appunto che l'arrivo in Italia di queste onde sarebbe intorno circa un'ora dopo il terremoto. Nella parte qui in basso a destra vediamo un'animazione proprio di questo stesso tsunami che si sarebbe propagato a partire appunto dall'isola di Creta verso le coste del Nord Africa, della Libia e poi in Egitto e poi per arrivare anche appunto dopo circa un'ora anche in Italia. Questi sono terremoti da cui dobbiamo insomma difenderci in qualche modo, i nostri sistemi di allerta servono anche per proteggerci da queste onde che potrebbero arrivare da queste isole. Oggi come ad esempio nel caso di Messina nel 1908 lo tsunami è dovuto al terremoto dello stretto con qui vedete riportate le barrette blu che rappresentano l'altezza massima dell'onda sia in Calabria che in Sicilia e vedete dei valori che superano i 10 metri a Sant'Alessio in Sicilia 12, a Pellaro in Calabria 13 e altri a Lazaro 10 metri e mezzo e così via. Quindi insomma importanti inondazioni con danni seri che si sommarono al terremoto che aveva già fatto il disastro ovviamente sia sulla spawn Calabra che quella siciliana. Qui è rappresentata una mappa con invece i colori rappresentano i tempi di arrivo stimati per un'ipotetica sorgente, pure qui c'è discussione ancora su quale fosse la faglia che ha generato il terremoto. Ci sono diversi modelli ma insomma tutti i modelli convergono nel dire che si tratta di una faglia normale, una faglia diretta con un movimento verticale intorno all'area dello stretto. In un caso del genere i tempi di propagazione di uno tsunami, almeno della prima onda di tsunami, sono molto brevi, sono di qualche minuto e infatti le cronache del terremoto e del tsunami del 1908, come ad esempio quelle di Baratta, quelle di Platania, che studiarono l'evento, andando proprio a intervistare le persone sulle navi, sui porti, riportano dati appunto di primi ritiri dell'acqua intorno ai 5 minuti, 4 minuti, 10 minuti, però va ricordato sempre che essendo uno tsunami un fenomeno con varie onde e quasi mai la prima è quella più grande, per esempio Messina fu la seconda, la terza, quella più grande, i tempi diciamo per un'eventuale allerta come vedremo dopo ci sono e ci sarebbero insomma anche in questo caso almeno per se non per la prima onda, per la seconda, ma poi insomma faremo qualche riflessione su questo. Andiamo un po' avanti, qui ci sono alcune storie degli tsunami a Messina, vedete che non ce n'è uno solo, non c'è solo il 1908 che è il punto qui più alto a destra, ma anche nel caso del 1783 ci fu uno tsunami importante e anche in precedenza. Catania ne ha un po' meno e ha forse un po' meno, ha avuto meno eventi e meno forti, ma comunque anche qui siamo su un'intensità importante sia nel 1908 che negli anni precedenti. Qui ce ne sono altri che ho messo per far vedere città diciamo meno note dal punto di vista sismico degli tsunami come Genova e Ancona, dove però comunque ci sono diversi eventi se non grandi, ma insomma che potrebbero soprattutto oggi con l'aumento della popolazione e delle infrastrutture che ci sono sui porti, nelle zone industriali che sono spesso vicino al mare e che possono essere anche pericolosi, anche se non sono così grandi come quelli che vedevamo prima. Stromboli ha una lunga storia di tsunami nel 1900 e adesso parliamo un pochino del nostro centro di monitoraggio che viene svolto nella sala di monitoraggio sismico e allerta tsunami di Roma, quella che storicamente ha fatto per tanti anni, tanti decenni, la sorveglianza dei terremoti. Dal 2013 abbiamo iniziato con un servizio sperimentale appunto a seguito di tutta quella procedura che dicevo prima appunto delle Nazioni Unite, dell'UNESCO che ha messo in piedi tramite la Commissione Oceanografica Internazionale questo Neon TWS e diventiamo poi, dopo alcuni anni di test, siamo diventati fornitori di servizi tsunami, tsunami service provider per l'IOC, quindi la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO dal 2016. In Italia siamo operativi dal 2017 con la funzione sia di fare l'allertamento sia di stimare la pericolosità tsunami, come vedevamo prima è uno dei compiti importanti per un centro di allerta, anche quello di determinare qual è il livello di pericolosità e come quindi difendersi e dare indicazioni a chi poi deve fare la pianificazione per difendersi meglio questo rischio. Qui c'è appunto una mappa di pericolosità, adesso non entro nei dettagli perché è un po' complicata da spiegare, però per tutta l'area Neon TWS è pubblicata di recente come esito di un progetto europeo che è durato alcuni anni, finito alcuni anni fa, che ha prodotto questa prima mappa probabilistica di tsunami tenendo conto quindi di tutta la conoscenza storica che vedevamo prima ma anche poi di considerazioni geologiche sulla presenza di faglie attive nelle varie zone del Mediterraneo e dell'Atlantico nord orientale. Qui c'è uno zoom sul Mediterraneo, di questa mappa vedete che le zone più pericolose sono quelle del Mediterraneo orientale, dell'arco ellenico, delle coste del Nord Africa, dalla parte della Libia e dell'Egitto, ma anche l'Italia nella sua parte meridionale ha dei livelli piuttosto elevati. Queste mappe non sono solamente così diciamo un approfondimento scientifico, ma sono utili perché su queste si è basata poi la pianificazione costiera fatta dal SIAM, appunto quello che è il sistema di allertamento nazionale con il Dipartimento di Protezione Civile è l'ISPRA che sul suo sito dell'ISPRA ha messo in piedi questo Tsunami Map Viewer che ha quindi mappato sulla base di alcune scelte fatte dalla Protezione Civile sul livello di difesa da considerare, quindi il periodo di ritorno medio e altre caratteristiche, insomma quali sono le aree di inondazione e quindi le aree che andranno evacuate in caso di allerti. Quindi su questo sito trovate un po' tutti i dati per regioni e si possono scaricare i dati, si possono visualizzare graficamente in questo GIS che è disponibile appunto sul sito, qui c'è un esempio, uno zoom proprio sullo stretto di Messina, scusate sala di monitoraggio eccetera eccetera, è arrivato questo riconoscimento, la direttiva SIAM che ho citato, quella appunto che istituisce il sistema nazionale, gli aspetti critici li ho già un po' anticipati, il fatto che gli Tsunami sono eventi rari, il fatto che quindi questo determina una scarsa attenzione da parte della politica e dei decision makers cosiddetti e anche una scarsa consapevolezza e preparazione da parte della popolazione. Questa è l'area nostra di competenza, l'area di competenza del nostro centro allerta Tsunami, quelli che vedete a destra sono i paesi, i centri che ricevono i messaggi di allerta quando c'è un terremoto sopra una certa soglia e così adesso funziona, c'è un terremoto sopra una certa soglia, si manda un messaggio prima ancora di vedere, di capire se lo Tsunami c'è stato veramente perché non c'è modo oggi di fare diversamente, quindi dobbiamo per forza lanciare un'allerta un po' alla cieca basandosi sulle conoscenze dei primi minuti, quindi la magnitudo, la profondità e la localizzazione del terremoto. Adesso si stanno sviluppando sistemi più raffinati ma ci vorrà un po' di tempo prima di metterli in pratica. Qui vediamo una vasca proprio fatta apposta, è una vasca che si trova in Giappone dove proprio a scopo dimostrativo si fa vedere come un'onda di Tsunami anche piccola, un'onda di pochi decimetri, 30, 40 o 50 decimetri, quindi mezzo metro di altezza di un'onda, sia molto pericolosa. Si vede qui appunto che l'arrivo dell'onda, dalla sua velocità e la sua energia e la persona che qui in questo caso è una persona preparata, imbracata e ovviamente salda sulle gambe ma comunque viene trascinata via, si vede anche da altre angolazioni, quindi bisogna pensare che in questi casi l'allontanamento dalle zone pericolose è importante e soprattutto se pensiamo a persone come pensione anziane o bambini o persone con disabilità, essere trascinate via e affogate. Oltretutto gli Tsunami trasportano nel loro cammino qualsiasi cosa trova, automobili, barche, tronchi d'albero e tutto, quindi è praticamente impossibile poi salvarsi insomma. Ecco qua vediamo quali sono le allerte che abbiamo fatto in questi 5 anni, dal 2017 al 2021. Sono stati una ventina di casi in cui abbiamo dovuto lanciare un'allerta. In realtà devo essere più preciso perché vedete nella scala in alto a sinistra qui ci sono vari livelli di allerta, alcuni, questi verdi in particolare, sono terremoti che hanno una magnitudo forte ma non tale da generare uno tsunami, vengono definiti messaggi di information, sono terremoti comunque di magnitudo superiore a 5.5 che vanno segnalati, non c'è un vero rischio tsunami ma vanno segnalati perché comunque è bene sapere che c'è stato un evento del genere e quindi magari prendere alcune precauzioni. Non generano però delle allerte di protezione civile come invece fanno i messaggi di tipo arancione, advisory o rosso, watch locale o watch regionale, questo dipende un po' dalla magnitudo. Questi sono gli eventi a cui facevo riferimento, quelli riportati nella mappa, vedete che le magnitudo vanno da 5.6 fino a 7. Questo è proprio il caso di Samos che citavo all'inizio in cui appunto ci fu uno tsunami abbastanza importante che determinò anche una vittima e diversi danni nell'isola di Samos in Turchia a Smirne. Un caso importante per noi è stato un test importante, è stato nel 2018 quando ci fu un terremoto di magnitudo 6.8 nell'isola di Zante, quindi isole ioniche non lontane dalle coste italiane. Il sistema ha funzionato piuttosto bene, siamo riusciti a fare un'allerta in 8 minuti, il primo messaggio era un'allerta rossa per la parte greca, mentre era un'allerta arancione anche per due regioni italiane, cioè la Puglia e la Calabria. Le stime davano appunto un tempo di arrivo sulle coste italiane tra i 30 e i 40 minuti, il messaggio è arrivato dopo 8, è partito dopo 8, è arrivato alla protezione civile e agli altri paesi dopo 8 minuti, quindi tutto sommato in tempo per fare qualche azione di difesa. In questa figura vediamo la mappa della zona del Mediterraneo con il terremoto che dicevamo prima, quello di Zante del 2018 e come vedete non è lontano dalle coste italiane. Questo poi qui fa vedere il livello di allerta che è stato diramato, quindi tsunami watch, allerta rossa per la Grecia, mentre per l'Italia e l'Albania si trattava di un'allerta di tipo arancione che significa allontanarsi dalle coste ma non doversi allontanare troppo, comunque elevarsi dalla parte più pericolosa. Vedete che il primo messaggio è stato inviato dopo 8 minuti, dopo il terremoto, quindi un tempo ragionevole. Qui nella animazione che c'è qui sotto in basso a destra vedete anche che è appunto la propagazione dell'onda di tsunami, ammesso che ci fosse stato uno tsunami, in questo caso per fortuna è stato molto piccolo, avrebbe impiegato circa 30 minuti, 30-35 minuti ad arrivare in Calabria, in Puglia, quindi un tempo sufficiente, quello degli 8 minuti per diramare un'allerta e per avvisare le persone. Poi purtroppo sappiamo che ancora manca l'ultimo anello della catena per far arrivare veramente l'allerta a tutti. Qui invece mostro una ricostruzione di un video fatto durante il terremoto e lo tsunami, che vedremo tra poco, del 30 ottobre 2020. È stato l'evento più forte di questi ultimi anni nel Mediterraneo, magnitudo 7, ha generato uno tsunami piuttosto dannoso. Una persona in Turchia è anche morta a causa dello tsunami, oltre ad altre che erano invece decedute per via dei crolli del terremoto. Qui si vede una ricostruzione accelerata e tagliata, ma insomma che il terremoto è considerato è stato alle 13 e 51. Già dopo 2-3 minuti si vede un ritiro dell'acqua, lì in fondo, il ritiro del mare, quindi si vedono delle scoglie che affiorano e qui le persone se ne vanno con molta tranquillità. Poi vedremo adesso una prima inondazione, qui siamo a 3-4 minuti dopo il terremoto, forse 4 minuti dopo il terremoto. Questa viene eseguita da un ritiro nuovamente dell'acqua. L'ultima parte di cui vi voglio parlare brevemente è la parte downstream cosiddetta, cioè finora abbiamo visto come funziona un sistema di allerta nella parte di calcolo del terremoto, di calcolo della magnitudo e di distribuzione dei messaggi. Quello che succede a Valle però è tuttora oggetto di implementazione e di discussione, perché si sta facendo molto per cercare di portare questi eventuali messaggi al cittadino, alle comunità che vivono nelle zone a rischio e ancora qui siamo abbastanza indietro. Ci sono da citare dei miglioramenti strumentali, su cui adesso vado un po' veloce, comunque l'ISPRA sta installando, è installato delle nuove postazioni mareografiche nelle diverse zone italiane nell'ultimo anno, nel 2021. Qui ci sono due esempi in Sicilia, in Calabria e poi in Sardegna ce n'è un altro. Quindi questo serve un po' a migliorare la nostra capacità di osservare lo tsunami, ma sempre una volta che è arrivato in costa, perché questi sono strumenti che sono nei porti o subito fuori dai porti. Un'altra cosa che si sta facendo, un progetto, è quello di mettere dei nuovi strumenti sulle piattaforme in offshore per avere un tempo maggiore di avviso, quindi avere prima l'informazione se lo tsunami si è generato e sta passando sotto la piattaforma, poi ci sono altri progetti che prevedono l'installazione di strumenti nei siti profondi, dove per una serie di progetti degli ultimi anni è stata creata un'infrastruttura di ricerca che si chiama EMSO, che ha dei sistemi di rilevamento di vari parametri in fondo al mare e si vogliono migliorare questi sistemi per essere in grado di mappare anche gli tsunami quando passano su questi cavi o su questi osservatori di mare profondo. Per informare le persone ci sono vari strumenti che abbiamo adottato, uno è appunto quello di creare un sito web che vedete qui, che potete consultare, in cui mettiamo un po' tutte le informazioni e delle news abbastanza aggiornate su quello che succede. Una cosa interessante che stiamo conducendo da tre anni ormai è uno studio sulla percezione di questo rischio, perché chiaramente è importante capire che cosa le persone pensano di questo rischio, secondo la loro esperienza personale, ma anche secondo la cultura locale, per esempio dove c'è stato lo terremoto del 1908 e il maremoto del 1908, se c'è una maggiore consapevolezza che in altre regioni, come sembra dai primi studi che abbiamo fatto e così via. Quindi stiamo portando avanti questa ricerca con questi questionari fatti in diverse migliaia di persone che rappresentano comunque un campione di alcune milioni di persone in queste regioni che vedete qui. Adesso vorremmo cercare di completare anche questo campionamento per poi guidare meglio la strategia di comunicazione che va fatta per aumentare la consapevolezza di questo rischio. Un altro interessante esperimento è quello che viene chiamato tsunami redi, cioè essere pronti agli tsunami, un progetto che abbiamo iniziato lo scorso anno sperimentato in altri centri, altri bacini oceanici. In Italia l'abbiamo introdotto in tre comuni pilota, quelli che vedete qui, Vinturno, Palmi e Pachino, in tre regioni a diverso livello di pericolosità e siamo adesso in grande attività con questi tre comuni per cercare di portarli ad essere pronti a rispondere a questo rischio. Speriamo che nel prossimo anno, nel 2022, questo obiettivo venga colto, ci sarà un riconoscimento una volta che vengono raggiunti una serie di risultati, sono parametrizzati con 12 elementi, una volta che vengono raggiunti questi elementi che sono ad esempio la cartellonistica, ad esempio dei sistemi di allerta, che possono essere delle sirene sulle spiagge, possono essere dei sistemi sui cellulari e poi devono essere ben mappate le aree a rischio, eccetera, eccetera. Questa procedura prevede appunto un riconoscimento da parte dell'UNESCO di comuni Tazzo Namiredi, sarebbe insomma un buon esempio per poi per tutti gli altri comuni italiani. Alcune esercitazioni che abbiamo fatto con questi comuni sono risultate particolarmente interessanti e quindi speriamo che questo possa contribuire a migliorare la conoscenza di questo fenomeno e la consapevolezza e la risposta delle persone, delle comunità alla gestione di questo rischio. Il progetto Tazzo Namiredi prevede proprio che ci siano intere comunità coinvolte, non solo le autorità, ma anche i rappresentanti dei cittadini, delle associazioni di volontariato, delle associazioni alberghiere o degli stabilimenti che possano in qualche modo ognuno fare la sua parte per ridurre questo rischio. Quindi concluderei qui questa presentazione nella presentazione che troverete troverete alcuni articoli pubblicati di recente su questo tema dal nostro gruppo in collaborazione con altri gruppi internazionali dove trovate sicuramente molte più informazioni di quelle che vi ho detto io e quindi lascio la presentazione con anche dei link utili ai vari siti del nostro istituto della protezione civile dell'ISPRA dove potrete trovare altro materiale. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Arrivederci.